amici del portale del verde eccoci qui oggi a parlare di prato i consigli per avere un prato sano e bello quindi se avete qualche problemino col prato tipo macchie gialle erba secca prato che era perfetto fino a qualche giorno fa e invece è stato preso letteralmente da salto da erbe infestante state con me per questo sarà un video veramente molto bello sono venuto fin qui siamo in friuli venezia giulia 450 chilometri per venire a intervistare bottos state con me allora marco in questa visita ho capito una cosa fondamentale che devo trattare il prato tu dammi conferma trattare il prato così come tratto un orchidea giusto perciò anche lui fa parte della famiglia non è il figlio brutto non è la cenerentola da lasciare lì ma questo l'ho capito però adesso prima di andare via voglio chiederti e fammelo questo favore di tutto quello che tu potresti dirmi di fare una sintesi di quelli che possono essere i tre consigli che io porto a casa me li riporto in lombardia da poter dare all'hobbista a noi ci considerate così hobbisti semplice semplice che io posso dire rispondere al mio a chi mi scrive un commento su youtube mi dice ma tre consigli sul prato dimmi di tu sicuramente il primo è l'irrigazione perché si trovano ancora troppi errori ossia irrigazioni serali o chi addirittura irriga tutti i giorni quindi cercare di ottimizzare quelli che sono i fabbisogni idrici sicuramente questa è una voce importante fondamentale per il tappeto erbo irrigazione irrigazione sicuramente dall'altra parte lo sfalcio il taglio perché spesso momentieri vengono utilizzate macchine non gestite e con una manutenzione troppo saltuare quindi ti sfiberano il taglio te lo fanno troppo basso e quindi il prato diventa biondo giusto come minimo e l'ultima cosa non meno importante l'utilizzo di prodotti qualità ossia prodotti creati progettati pensati e concretizzati specifici per il tappeto erboso e su questo voi di là ne avete no direi un po quindi allora ci ridiamo appuntamento un'altra volta dove ci spiegate magari anche qualcosa di più su questi prodotti visto che siete i maestri io ti ringrazio per questa così chiamiamola intervista seguitemi seguite soprattutto le puntate future che avremo su sul tappeto erboso perché io sto cominciando ad appassionarmi faccio mia colpa non l'ho mai fatto in precedenza ma hanno cominciato a contagiarmi qui a bottos e quindi dedicherò sicuramente molto più tempo all'altro figlio che adesso diventa parte integrante della mia famiglia ovvero il prato anzi mi dicono tappeto erboso iscrivetevi al mio canale come sempre alla prossima ciao 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 Grazie a tutti